ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video nel video di oggi volevo farvi vedere alcuni prodotti che hanno rivoluzionato degli aspetti della mia vita quindi sia in ambito di lavaggio per esempio dei capelli sia per quanto riguarda la vita da casalinga disperata sia per quanto riguarda anche i bambini oppure la semplice vita di donna e quindi spero che questa tipologia di video vi possa far piacere e che vi sia utile ovviamente vi metto nell'info box tutte le informazioni e i link dei prodotti menzionati iniziano prodotti con cui mi sono trovata veramente veramente bene che mi ha cambiato la vita per modo di dire ovviamente è questo turbante asciugamano di aquis è un marchio che non conoscevo e che ho scoperto se non mi sbaglio l'ho presa su look fantastic con degli sconti ma lo vende anche se fora questo turbante asciugamano è molto leggero e consente di dimezzare i tempi di asciugatura dei capelli ovviamente esistono tantissimi brand che hanno fatto questo modello atturbante di solito appunto mettono il bottone qui in alto e il laccetto che permette una volta appunto messo sulla testa e con i capelli all'interno di arrotolarlo e poi legare sopra con il laccetto i modelli sono tutti uguali io prima di questo ho usato per tantissimi anni questo qua del decathlon che costa veramente pochissimo che però come potete vedere è in microfibra quindi pensavo appunto che con la microfibra i tempi di asciugatura fossero più rapidi e in effetti è così però io nel passaggio da questo a questo ho notato una differenza abissale cioè i miei capelli che comunque sono fini e devo dirvelo sono fini e lisci e quindi non sono nemmeno tantissimi devo dirvi che quando tolgo questo praticamente dopo anche dieci minuti che lo tengo su i capelli sono quasi asciutti mentre in questo caso non erano così asciutti quindi la differenza tra i due ci sta però c'è anche un abissale differenza di prezzo anche questo lo devo dire è ovvio che in questo caso fatto un investimento e però anche questo modello quindi atturbante va bene senza ombra di dubbio mi hanno proprio cambiato la vita questo tipo di asciugamani atturbante però per quanto riguarda la marca assolutamente questa di cui ci sono tanti modelli e con trame diverse e io ho provato solo questo e ovviamente mi dura da ormai ce l'avrò da più di un anno credo e non lo cambio perché lo lavi e lo riusi quindi dura veramente una vita e purtroppo il colore facendo le tinte io l'ho rovinato un pochettino comunque esiste in diverse colorazioni pare sia progettato con una tecnologia che si chiama aquitex e e praticamente questi le fibre sono suddivise in fili più sottili e quindi praticamente questo accessorio non afferra le cuticole dei capelli come un normale asciugamano in questo modo assorbe acqua quattro volte più velocemente di un normale asciugamano la composizione probabilmente non si vedrà bene comunque per l'ottanta per cento poliestere e il restante nylon quindi è comunque un prodotto sintetico non è niente di di naturale però devo dirvi certo se uno pensa al prezzo pensa appunto che sia alto e che non ne valga la pena io devo dirvi che ne vale assolutamente la pena almeno nel mio caso mi ha cambiato proprio i tempi di asciugatura cioè io il phon lo utilizzo veramente pochissimo per quanto riguarda i miei capelli quindi ecco che lo dovrò rilavare perché è arrivato pepe a salutarci comunque devo dirvi che per quanto mi riguarda lo consiglio ed è promosso soprattutto se lo trovate con un ottimo sconto altro prodotto che mi ha cambiato la vita per quanto riguarda lo struccaggio è questo pannetto in microfibra che si chiama makeup hairizer non so se ho indovinato la pronuncia scusatemi praticamente io l'ho scoperto sul sito di sephora e l'avevo preso sempre con uno sconto in quanto mi era piaciuta la cosa che si ci si potesse struccare completamente solo con questo panno e l'acqua calda ovviamente io avevo fatto la prova già con i panni microfibra con cui magari ci spolvero ovviamente lavati e alcuni comprati solo per lo struccaggio ma sinceramente non mi era piaciuta la cosa cioè vedevo che non veniva proprio pulitissimo il viso almeno facevo fatica e non mi piaceva la sensazione sulla pelle di questi panni probabilmente avrò sbagliato a comprare panni in microfibra io adesso non lo so però da quando ho preso questo ormai ne ho due appunto che intervallo e li ho da almeno due anni credo lo struccaggio è diventato molto più semplice e anche molto più delicato sulla pelle e piacevole perché sentire questo panno sulla pelle veramente veramente piacevole e si sente proprio che viene via il trucco viene via tutto quanto anche il trucco waterproof soltanto con l'acqua calda ovviamente io ne ho presi col tempo all'inizio ne avevo preso uno poi col tempo ne ho presi due proprio perché al momento lo utilizzo praticamente e poi lo vado a risciacquare lo vado a lavare con un po di sapone ma poi una volta a settimana lo metto in lavatrice quindi a 60 gradi e per rimuovere bene tutte le macchie di trucco e devo dirvi appunto che con due intervallarli riesco un pochino meglio è un po più comodo però uno basta e avanza e come potete vedere è molto molto morbido ha anche una forma abbastanza pratica e grande da poter coprire tutto il viso e a due lati in praticamente questo lato che è un po più delicato per una pulizia appunto più delicata e questo lato come vedete un pochino diverso con una trama un po più grossolana io spesso lo uso anche in associazione a un burro struccante e che massaggio sul viso e poi praticamente con l'acqua calda e questo rimuovo il tutto appunto per per rimuovere bene tutto il burro tutto il prodotto e quindi ottenere un viso pulito devo dirvi che come metodo di struccaggio è piacevolissimo perché comunque sentire sul viso un panno caldo rende veramente piacevole e rilassante l'operazione di struccaggio non a caso appunto sull'aereo ci danno proprio dei pannetti caldi e soprattutto questa era una cosa che avevo visto anche in giappone utilizzare praticamente questi dei panni caldi da mettere sul viso per rinfrescarlo paradossalmente per rinfrescarlo infatti dopo aver utilizzato questo panno caldo su tutto il viso praticamente io lo rilavo lo ribagno sempre con acqua calda lo strizzo bene perché bisogna strizzarlo bene e poi lo lascio un pochino sul viso ben caldo e devo dirvi che la pelle è come se rinascesse assolutamente consigliato anche questa un prezzo non proprio bassissimo ma è un investimento secondo me e comunque si riesce a prendere sempre con lo sconto come vediamo dall'etichetta questa è completamente in poliestere qui dice lavaggio a 30 gradi io lo lavo tranquillamente a 60 gradi da una vita e non è successo niente quindi consigliato altri prodotti che mi hanno letteralmente cambiato la vita sono i prodotti tupperware io li conoscevo di nome ovviamente perché tupperware è molto molto famosa però non mi ero mai avvicinata al brand più di tanto perché comunque pensavo ok sono contenitori di plastica costano troppo per quello che sono poi grazie a una mia amica carissima che saluto e li ho scoperti e mi ci sono avvicinata piano piano a questo mondo e devo dire che sono impazzita cioè mi hanno cambiato veramente il modo appunto di conservare i cibi mi sono trovata molto molto bene e vi faccio vedere ne ho tantissimi ovviamente adesso però vi faccio vedere la tipo le tipologie che uso di più nel frigorifero e nel congelatore allora praticamente questi due erano in frigorifero quindi hanno del cibo dentro e devo dirvi che mi trovo molto bene con questi e che possono essere messi nel congelatore e ovviamente adesso non vi dico tutti i termini nomi perché non me li ricordo in questo istante ma se volete poi vi farò un video dedicato se vi fa piacere o vi interessa il nome particolare di qualcuno di questi e magari vi metto il link se se li ritrovo e praticamente questi si usano soprattutto nel congelatore ma io li utilizzo anche nel frigorifero e devo dirvi che mantengono i cibi ben refrigerati questi li uso soprattutto in frigorifero per la carne o per gli affettati e si mantengono benissimo cioè come se fossero freschi per diverso tempo tanto che all'inizio avevo fatto una prova e non potevo crederci che potessero rimanere così come appena aperti a lungo quindi veramente questo è forse il modello che uso sfrutto di più sia per le fettine di carne che per gli affettati quindi consigliatissimo questi altri invece li ho presi adesso con i punti della conad perché facevano appunto una raccolta punti e sono sempre dello stesso tipo di questo blu sono quelli appunto che vanno nel congelatore che io utilizzo moltissimo a volte praticamente li utilizzo anche per i minestroni sporzionarli e metterli invece delle buste che mi occupano un sacco di spazio metto le porzioni in questi contenitori chiudo il tutto e ripongo nel freezer quindi veramente devo dirvi che la qualità tupperware si vede è vero che i prezzi sono quello che sono ma a volte con le offerte gli sconti eccetera riuscite a ottenere dei pezzi che vi dureranno una vita altro prodotto che mi ha letteralmente cambiato il modo di stendere i panni è questo aggeggino qui che ho conosciuto grazie a filippo sempre uno youtuber bravissimo e che praticamente è una paia calzini chi di noi non ha messo in lavatrice i calzini per poi ogni volta al momento dello stendere magari perderne uno oppure non ritrovarli oppure stenderli uno qua uno là a caso e poi doverli ri appaiare quindi perdere tempo nel momento in cui appunto si ripiegavano i panni si mettevano a posto con questo io ho risolto e a casa nostra ovviamente i calzini ce ne sono una marea perché ho tre figli e più noi quindi comunque tanti calzini e in questo modo praticamente uno prende entrambi i calzini quindi si fa tutto al momento del lavaggio quindi si prendono i calzini si mettono si chiude in questo modo si aggancia i calzini rimangono l'uno con l'altro ben appaiati e si butta in lavatrice una volta appunto finito di lavare quando si va a stendere non bisogna aprirlo ma come potete vedere c'è un gancetto praticamente sullo stendino si appendono già i calzini ben appaiati e si asciugano attaccati a questo aggeggino e una volta appunto finito appunto asciutti si apre e si vanno a ripiegare i calzini che sono già insieme quindi ci si mette pochissimo tempo vi faccio vedere l'esempio oggi ho steso una marea di calzini come potete vedere così sono ben appaiati adesso si asciugheranno sullo stendino perché sono erano appesi sullo stendino nel momento in cui sono asciutti apro piego e metto via quindi veramente un metodo pratico per non dover star sempre a cercare calzini a volte perderne uno non ritrovarli è veramente un aggeggino comodissimo che ho trovato su amazon e che ricomprerei altre mille volte l'avessi conosciuto prima altro prodotto che mi ha rivoluzionato la vita da mamma in questo caso il pampers mutandino in questo caso il baby dry ma esiste anche il progressi praticamente voi direte beh i pannolini a mutanda sono sempre esistiti anche i tempi della tua prima figlia quindi 12 anni fa sì è vero però c'erano solo per i bambini più grandi cioè oltre forse 18 kg a su io non mi ricordo però so che mia figlia l'aveva messi nel momento in cui doveva procedere quasi allo spannolinamento quindi aveva due anni due anni e mezzo invece esistono questi pampers a mutandino già dalla taglia 4 quindi già da bambini abbastanza piccoli quando l'ho scoperto francesco aveva già cinque mesi se non mi sbaglio e praticamente cambiarlo era un problema perché lui non sta mai fermo sul fasciatoio deve prendere deve toccare deve girarsi eccetera quindi con gli altri pannolini che devi mettere la linguetta devi stringere eccetera praticamente diventava una vera impresa metterglielo bene poi spesso e volentieri le cose fuoriescono dalla dalle gambine se non lo mettiamo bene con questi pannolini io non ci credevo ma ho risolto davvero tutto cioè io mi trovo benissimo perché in un attimo si infilano proprio come fosse una mutanda eccoli e si infilano come fosse una mutanda però aderiscono benissimo al bambino cioè se noi li mettiamo appunto non fuoriesce assolutamente niente e sono anche comodi da togliere perché praticamente invece di sfilarli ovviamente rompiamo qui i fianchi li rompiamo e poi avvolgiamo il pannolino e cambiamo il bambino inoltre c'è questa linguetta che si allunga e una volta richiuso il pannolino permette di chiuderlo per bene per poi andarlo a buttare in modo che non si riapra accidentalmente ovviamente mio figlio adesso le stacca tutte perché si diverte però devo dirvi che questi pannolini sono comodissimi li avrei voluti avere anche per le altre mie due figlie quindi da quando li ho scoperti non li ho più cambiati ora in questo momento se siete sensibili al termine ciclo mestruazione vi fa schifo vi fa senso potete cambiare oppure chiudere il video arrivare alla fine io devo dirvi che sinceramente bisogna parlarne perché quando ho comprato questo prodotto io in italia non esistevano io l'ho presi dall'estero e devo dire che l'avessi visto prima me l'avessero parlato prima in italia avrebbe rivoluzionato la mia vita e non avrei avuto tutti i soliti problemi del ciclo che abbiamo noi donne sfortunate ovviamente è un prodotto che non consiglierei alle ragazzine e di che cosa sta parlando della coppetta mestruale ora adesso non è che ve la faccio vedere benissimo però ne esistono diversi tipi questa coppetta in pratica che cosa fa funziona al posto dell'assorbente funziona al posto del tampone interno e il metodo è più o meno lo stesso del tampone interno solo che nel caso del tampone interno praticamente in quel caso si imbeve e quindi va cambiato con una certa costanza e bisogna stare attente comunque perché vi potete macchiare ha comunque dei vantaggi ma anche degli svantaggi in questo caso gli svantaggi non ci sono assolutamente perché è una sorta di contenitore in silicone un imbuto ovviamente un imbuto chiuso quindi quello che entra qui non fuoriesce da nessuna parte e questo gambetto che può essere più o meno lungo ed esiste di diversi tipi o a gambo o ad anello a pallina oppure può anche non esserci serve semplicemente per facilitare la fuoriuscita della coppetta questa coppetta è fatta in silicone medico e ne esistono diverse varianti esistono senza colore oppure tutte colorate io le presi dall'estero erano tutte colorate e esistono anche di diverse misure e diverso grado di rigidità in questa è abbastanza morbida ce ne sono alcune che sono più dure ovviamente questo varia in base a quanti parti avete fatto varie in base all'età varie in base a diverse cose però di solito quando andate a comprare le coppette ci sono le tabelle che vi spiegano bene quale modello dovete prendere in ogni caso questa è molto molto comoda e per inserirla bisogna piegarla ed è facilissimo ed è facilissima da inserire e vi accorgete subito se è messa al proprio posto no perché sentite proprio che si apre che si apre così non fa male assolutamente io la uso da 12 anni quindi anche da prima ovviamente dopo il parto non potete utilizzarla se avete fatto un parto naturale ma dovete aspettare appunto di guarire e però con questa ci si scorda assolutamente di avere il ciclo ovviamente se non avete dolori particolari e perché la mettete e riesce praticamente a permettervi di cambiarvi anche solo due volte al giorno nel caso in cui magari non avete un ciclo molto abbondante e in ogni caso soprattutto nei viaggi è super super comoda sembra proprio di non avere niente inoltre non vi dovete preoccupare dei cattivi odori non vi dovete preoccupare di perdite particolari di macchiarvi cioè veramente ha rivoluzionato il mio ciclo e essendo appunto poi stata introdotta in italia anche se in pochi modelli devo dire sono sicura che comunque ormai un po tutte la conoscete però devo dire che non bisogna spaventarsi di utilizzarla perché è la cosa più utile comoda che abbiano potuto inventare per noi donne e per quanto riguarda l'igiene ovviamente questa va sterilizzata all'inizio e alla fine del ciclo ovviamente e ogni volta che vi cambiate ma è un attimo ci vuole un attimo si lava col semplice sapone e e poi la rinfilate e devo dirvi che è la cosa che mi ha rivoluzionato quindi assolutamente consigliata magari non alle ragazzine per il semplice fatto che poi magari non riuscirebbero ad estrarla dopo avervi scioccato con la coppetta spero di no scherzo e vi parlo dell'ultimo prodotto per quanto riguarda questo video poi magari più in là ne farò altri dell'ultimo prodotto che mi ha cambiato un pochino la vita diciamo in questo caso prendo questi perché sono quelli che ho ricomprato del conad ma esistono i tantissime marche ovviamente il più famoso sarà la chiappa colore grey credo non lo so e però sono i foglietti a chiappa colore da mettere nella lavatrice alla io sono una di quelle persone che ha sempre odiato separare i capi bianchi dagli scuri dai colorati io mettevo tutto in lavatrice a volte ho fatto qualche piccolo danno e da quando poi sono usciti questi foglietti assorbenti praticamente il mio bucato è stato molto più semplice perché io che non separavo mai colori non li separo nemmeno adesso e praticamente metto tutto in lavatrice e mia figlia usa tantissimi capi neri scuri perché adesso alle medie va di model nero praticamente vedo che questi foglietti acchiappano benissime colori cioè io non ho mai più trovato un capo macchiato non ho mai più avuto problemi di capi bianchi che diventano rosa o diventano grigi e il bucato rimane sempre perfetto quindi questi foglietti mi hanno rivoluzionato la vita da casa liga tra virgolette e per il momento è tutto fatemi sapere tra i commenti quali sono i prodotti che vi hanno rivoluzionato un po alcuni aspetti della vita e spero che questo video vi sia stato utile che vi abbia fatto anche un po di compagnia e vi ricordo se volete di iscrivervi al canale per supportare i miei video e anche quelli fatti appunto con le mie figlie e mettete un like se vi è piaciuto il video e lasciatemi un commento un saluto perché mi fa sempre molto piacere leggere e rispondervi e ci vediamo al prossimo video ciao